Stiamo vivendo in una condizione di imbarazzante incertezza, devo dire, perché sabato prossimo ci dovrebbe essere la giornata di campionato, dovremmo affrontare la PGS Luce Messina ad Augusta, però ripeto, si susseguono delle notizie di fermo di campionati, continuare il campionato, in che modo non si sa, perché nessuno è in grado in questo momento di prendere delle decisioni appropriate, ma soprattutto per tutelare la salute delle squadre, dei ragazzi, del movimento intero, perché devo essere sincero, è come se venissimo considerare carne da macello in questo preciso istante chiaramente. Sabato scorso siamo stati a Catanzaro, abbiamo attraversato due regioni che per il decreto del Presidente del Consiglio erano di tipologia arancione e rossa e sapete perfettamente i rischi che si sono corsi. Se qualcuno sarebbe riprendere tutti i giorni 10 e approfittare di questa sosta per recuperare le partite.